Qui è il comandante che vi parla Desidero darvi il benvenuto a bordo della nave Addio stress Stiamo salpando, quindi mettetevi comodi Rilassatevi e godetevi il vostro viaggio verso il paradiso Devo dire che hai avuto davvero una magnifica idea, mio caro George E anche molto, ma molto romantica Vabbè, ora esageri E' meglio che vada a fare due passi sul ponte, a dopo Sì, signore, tre lunghe settimane di pace e tranquillità E come se... Anche lei qui, signor Wilson Ehi, bravo, ha ritrovato il guinzaglio Grazie Uomo in mare! Sta ritornando in sé, avete sentito? Ciao, George Eh, cosa? Ah, Marta cara, ho avuto un incubo Dennis, lui era qui E' stato orribile! Ma certo che sono qui, signor Wilson E ci sono anche mamma, papà, il piccolo Joy e quella odiosa di Margaret Dennis, mi ciao! E non dimentichi Roof No, no, portatemi via di qui!